Quasi 200.000 euro per risistemare l'intero controsoffitto dei locali dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga. Questa mattina sono iniziati i lavori all'interno della struttura diretta da Viviana Aldisio. Da alcuni anni le infiltrazioni legate alla pioggia avevano seriamente danneggiato la controsoffittatura della scuola, creando non pochi disagi ad alunni e insegnanti. Due anni fa era stato stilato un progetto di recupero che però poi si era perso nei cassetti degli uffici comunali. Oggi l'assessore all'istruzione Cristian Malluzzo è andata a recuperare la documentazione e dopo aver rimodulato i fondi ha dato il via all'intervento iniziato questa mattina. Un'opera necessaria da realizzare come controsoffittatura di tutti quelli che erano gli ambienti che il Comune di Gela aveva messo in sicurezza diversi anni fa. Un lavoro di programmazione fatto con il settore dei lavori pubblici su tutte le scuole e quindi a completamento anche la scuola Verga grazie a quelli che sono i fondi strutturali europei PONFERS 2014-2020. Siamo riusciti ad accedere al finanziamento l'importo dei lavori di circa 200 mila euro e mettiamo in sicurezza quegli ambienti che sono stati a sua volta messi in sicurezza con lo smontaggio del contosoffitto. Quindi ricollochiamo il contosoffitto e contemporaneamente anche un efficientamento energetico perché all'interno delle aule e quindi delle aule magne verranno inseriti i corpi illuminanti a led. Soddisfatta la dirigente Vivian Aldisio per un intervento necessario alla funzionalità della scuola. Oggi finalmente è arrivato il momento di dire ci siamo, ci siamo, l'istituto cambierà volto, cambierà aspetto, sarà funzionale alle esigenze di tutti gli alunni dando merito all'amministrazione attuale che probabilmente ha recuperato un progetto che nei tempi dovuti era stato redatto ma non aveva avuto seguito e non aveva avuto un proseguo. Volontà dell'amministrazione attuale è stato quello di recuperarlo e renderlo esecutivo. Siamo contenti, non possiamo negare che sicuramente voglio dire un buon passo ma non è l'unico passo. Le scuole viviamo soprattutto anche grazie appunto al sostegno e quindi all'assistenza, alla manutenzione, alle opere di manutenzione che l'amministrazione deve proprio con senso civico garantire a noi istituti e per tanti altri aspetti siamo un po' un passo indietro. L'assessore Malluzzo intanto annuncia nuovi interventi anche in altri istituti scolastici. Si inizia a programmare e non escludo importanti interventi anche in altre scuole, devo essere sincero, diverse scuole presentano criticità quindi numerose infiltrazioni di acqua e anche messe in sicurezza che sono state fatte in passato con lavori mai conclusi. Questa amministrazione sulle scuole sta investendo, lo ha già dimostrato nel mese di settembre e continuerà a farlo tutto quest'anno. Già diverse gare sono in itinere per le manutenzioni ordinarie e straordinarie all'interno delle scuole. Tutto questo nuovamente per ridare ambienti sicuri e aule sicure dove i nostri ragazzi possono fare lezioni.